Innanzitutto un saluto cordialissimo e gioioso perché ancora oggi ci sono dei giovani disponibili ad affrontare un problema davvero importante dal punto di vista umano ma anche cristiano che riguarda precisamente la politica e in termini più ampi la partecipazione alla vita della società. E in questo siamo davvero nel cammino della Chiesa universale richiamata in particolare da Benedetto XVI con la sua Caritas in Veritate. Questa encicla è stata scritta dal Papa ma chiede di essere riscritta quotidianamente dai cristiani a cominciare dai giovani. Come si inserisce nel cammino della nostra Chiesa ambrosiana? Ci inserisce nel senso che anche quest'anno impegnati a seguire l'esempio di San Carlo, un santo che contemplava Gesù crocifisso ma lo voleva ricontemplare per così dire nelle persone fragili, deboli, provate dalla vita, ferite da tanti mali, ha dato un impulso particolare di attenzione nei riguardi delle fasce più deboli della popolazione e quindi da questo punto di vista io stesso nel programmazione pastorale ho chiesto di rinnovare con convinzione e con decisione la partecipazione di tutti, a cominciare dai giovani, alla linea pastorale, sociale e politica che la nostra Chiesa ambrosiana ha da sempre avuto nella sua storia. Anche grazie, ripeto, alle indicazioni programmatiche di San Carlo Borromeo. Lei dice spesso con una frase della Sollecituto Reis Socialis che lei è particolarmente cara, tutti responsabili di tutti, questo vale ancora di più per la politica che è la più alta forma di carità, diceva Paolo VI. Non c'è dubbio, tutti responsabili di tutti, in ogni ambito, a cominciare dall'ambito forse più faticoso, più difficile, più complesso che è l'ambito politico. Da questo punto di vista penso che i vescovi italiani ripetutamente si augurano una nuova stagione rinnovata di cristiani cattolici impegnati nella politica stessa. Ed è con piacere che io vedo che l'iniziativa date a Cesare è un'iniziativa che è giunta al terzo anno ed è un'iniziativa in crescendo. Le necessità del momento che stiamo attraversando diventano una solicitazione ancora più forte perché ci sia un'adesione ancora più rilevante, più numerosa per il bene di tutti.